Musica Ninguno fa ningún gol Serum Sembrato era un serum No sé, calcare una starappolo super contenta Non è facile diventare un tifoso di calcio, ci vogliono anima, ma se ti applichi ore e ore entri a far parte di una nuova famiglia. Solo che in questa famiglia tutti si preoccupano delle stesse persone e sperano le stesse cose. Cosa c'è di infantile in questo? E' stato proprio un momento in cui è incominciata la mia discesa all'inferno. Ho dovuto poi prendere una decisione importante se volevo continuare a vivere. So che tu con altri dieci ragazzi, metà partigiani e metà fuggiaschi come te, in pieno conflitto mondiale giocasti una partita di calcio contro i tedeschi che occupavano il tuo paese. Tu avevi 19 anni, la tua unica preoccupazione era correre, fuggire dalla guerra. Dei tuoi compagni solo Mimmo Maurelli è vivo. Il tempo passa in fretta, mi ripeti, e oggi tocca a me riannodare la trama dei tuoi ricordi che il tempo va svilacciando un po' alla volta. Il tempo passa in fretta, mi ripeti, e oggi tocca a me riannodare la trama dei tuoi ricordi che il tempo va svilacciando un po' alla volta. Il tempo passa in fretta, mi ripeti, e oggi tocca a me riannodare la trama dei tuoi ricordi che il tempo va svilacciando un po' alla volta. Il tempo passa in fretta, mi ripeti, e oggi tocca a me riannodare la trama dei tuoi ricordi che il tempo va svilacciando un po' alla volta.